Allora, 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 volumi, rassegnazione, stato d'animo dei trader, lo analizziamo all'interno dei grafici che stiamo osservando. Anche ieri sono usciti fuori numeri forti delle vendite al dettaglio americane e, anche se questi numeri potrebbero far pensare a una Fed di nuovo parecchio aggressiva sul fronte tassi, inflazione e atteggiamento restrittivo, spostando in avanti in un tempo indefinito quelle che potrebbero essere eventuali azioni di ammorbidimento della loro politica monetaria, si è comprato di nuovo un po' di debolezza e si torna a salire. Vedete anche da questo grafico del DAX con l'Europa che fa veramente un altro mestiere, nonostante che la Lagarde, pure ieri, abbia ripetuto che tutto sarà meno che anima candida e buona e vediamo che le borse salgono. Questa salita sta chiaramente, come abbiamo già detto ieri, e come si vede molto bene anche da questo andamento della volatilità storicizzata degli ultimi tre mesi, cinque giorni fa stavamo a 15% anno, oggi stiamo a 12,75-13%, a voi siano piccoli numeri ma una variazione di due punti su 15 è quello che si suol dire tanta roba. Si distruggono quindi molte strategie in opzioni, vigono soltanto quelle che si compra basso e si vende alto, i volumi a un certo punto calano e soprattutto si vedono solo quando ci sono le debolezze. Quelle debolezze che farebbero pensare a un mercato ribassista che finalmente prende il suo tempo, il suo spazio per respirare e per invertire nulla di tutto ciò. Allora perché questo mercato continua a salire? Sale perché in America succedono delle cose che fanno pensare delle altre cose. Allora, ci sono ancora molti risparmi accumulati dovuti alle politiche di credito durante la pandemia che le famiglie ancora hanno e che stanno spendendo perché le vendite al dettaglio a gennaio hanno fatto segnare un aumento del 3% che è il massimo degli ultimi due anni. La gente in America spende per bene i servizi discrezionali, i ristoranti, lo vediamo anche in Italia, sono pieni, mobili, abbigliamento, auto, moto eccetera eccetera e questa è la prima cosa e di conseguenza le aziende che vendono sta roba gli utili ne fanno. Quindi significa che le famiglie e probabilmente anche gli operatori finanziari non credono più di tanto alla recessione perché dicono ma in fondo l'economia tira, le vendite al dettaglio vanno bene, il lavoro è ancora molto richiesto e, questo è stato detto anche dalla Fed di Atlanta ma comunque è un discorso che si nota anche da diversi altri indicatori, le banche danno credito perché comunque l'economia è in una recessione tecnicamente molto pilotata, piuttosto morbida e c'è un altro fattore, gli algoritmi automatici di acquisto che hanno creato questo grosso rialzo o comunque questo rialzo che comincia a essere, sia pure con delle differenze fra America e Europa, importante in quest'ultima fase, chiaramente cosa fanno? Si riposizionano giorno dopo giorno in chiave rialzista chiudendo le operazioni ribassiste che a loro volta creano degli acquisti e di conseguenza cosa fa? Wall Street lancia un segnale che in termini di politiche di asset mondiali anche i money manager che lavorano su azioni asiatiche, azioni europee e prendono spunto dal benchmark mondiale che è quello dell'America, non possono ignorare, per cui se l'America tiene il prezzo anche l'Europa terrà il prezzo perché non puoi switchare da un'area geografica a un'altra e non avere un comportamento omogeneo, di conseguenza viene comprata per trascinamento anche l'Europa, la quale fa una scommessa che è quella che, sia pure in presenza di dati economici di inflazione più elevata, sia pure in presenza di dati dei consumi meno brillanti, sia pure in presenza di un atteggiamento parzialmente, anche se non omogeneo, un po' più restrittivo delle banche si accoda. Perché? Perché non può rimanere indietro, cioè il sottopeso che c'era a inizio anno su molti mercati si sta piano piano allineando a un sovrappeso o comunque un peso normalizzato in tutte le aree geografiche. C'è anche da dire una cosa, quali alternative hanno i money manager nell'investimento del denaro? Hanno le alternative dei rendimenti a breve che salgono? Certo, li usano, li usano come cash, cioè il loro conto corrente oggi è investire in bond a due anni, che hanno una volatilità estremamente bassa, adesso la vediamo, eccola qua, la volatilità dei bond a due anni è il 2%, la volatilità di un bond a 30 anni è una cosa diversa, è il 12%, quindi di conseguenza in un rapporto rendimento rischio, una roba che ha un tasso di interesse allargato del 5%, che non è così perché in realtà è un 4 e qualche cosa, con una volatilità del 12, non può tenere il passo con una roba che ha un rendimento del 4 e fischia con una volatilità del molto più bassa, perché il 2. In conseguenza l'investimento, e lo vediamo, è sul rendimento e quindi il bond a due anni cala, calando di prezzo aumenta il suo rendimento a sfavore di che cosa? Di una roba che cala meno di prezzo che quella del bond lungo, col bond lungo fai trading di posizione lunga, col bond corto fai il cash, ma con un calo dei rendimenti della parte lunga, la parte lunga non è interessante. Come si crea allora il bond lungo? Comprando le azioni. Determinate azioni, soprattutto in Europa, che ti danno un ottimo dividendo, te le compri e ci fai i dividendi sulla parte lunga e le tieni lì. E non te ne frega nulla, perché anche se ti perdono X, ti danno un buon dividendo. Questi sono tre motivi che stanno mortificando le attività dei trader, anche nel senso dell'intraday, perché su un mercato che ti compra qualunque debolezza e che ti vanifica le discese che si erano viste a dicembre, che avevano fatto pensare a uno short, è evidente che questo è un mercato che si autoalimenta. Autoalimentandosi e comprimendo la volatilità non ti dà alcuna chiara indicazione dove entrare per fare swing trading. È chiaro quindi che il popolo dei trader che nell'80% fa operazioni che non durano più di cinque giorni e che è forzatamente per motivi di capitalizzazione e di tempo a disposizione, molto legato all'uso della leva e di conseguenza anche legato alla paura che poi il controllo della leva stessa ti scappi via e ti bruci, conti che, ripeto, sono meno capitalizzati, questo è chiaro che alla fin fine cosa esce fuori? Esce fuori che si mollano determinati tipi di attività di ribasso, di speculazione, un po' con la sindrome che noi abbiamo del sapientino che ti dice adesso te la faccio vedere io ti shorto i massimi e quei massimi, come vediamo dall'andamento del DAX orario ieri, non sono mai shortabili perché il mercato ti fa un po' di barahonda la notte e poi ti riprende. Oggi non fa neanche barahonda la notte perché vedete che l'apertura del nostro indice DAX di riferimento dalle 8.09 è rialzista. Fuzzimib peggio che andare di notte, tanto infatti che mi ha peggiorato il rating sui titoli perché noi siamo trascinati in acquisto anche da un'altra cosa che si riflette poi sul benchmark delle banche europee che è molto molto importante. Se i prezzi dei titoli di Stato permettono occasioni di trading e di portare a casa rendimenti interessanti, soprattutto sulla parte corta, se nonostante tutto con l'aumento dei tassi le banche fanno più utili, il mercato specula sul fatto che le banche facendo più utili prima o poi potranno essere indotte, e questo vale per l'Europa perché in America già lo fanno e non l'hanno mai smesso, a comunque concedere il credito che concederanno a tassi più elevati e di conseguenza potrebbero anche con i tassi più elevati ammortizzare eventuali perdite sull'insolvenza di chi non ce la farebbe comunque a rimborsare perché a crisi ce sta. Di conseguenza tira il comparto delle banche, abbiamo visto con i casi eclatanti, discussi anche ieri su classe NBC, Unicredito eccetera eccetera, e il mercato si muove all'interno di una banda di eccesso. Sarà questo poi uno degli argomenti che andremo a illustrare nel webinar di oggi, che è proprio concentrato alle 14.15, vi aspetto, vi metto poi il link anche su YouTube, che sarà poi direttamente rivolto a vedere c'è una condizione di eccesso durante l'andamento dei mercati, sia di posizione che non, che io posso sfruttare? Lo vediamo, comunque in questo caso da un'anteprima che vi do, che vi faccio vedere, questo è il buy sell e vedete che le condizioni di eccesso ci sono, ma non ci sono perché questo indicatore filtrato da una sua media mobile, quindi che prende gli istogrammi delle singole sedute e li trasforma in una media mobile continua, è un indicatore che non c'è nulla a fare, non me lo mostra l'eccesso, non c'è e se vado a vedere questo, come fosse un MACD, è un po' più blando, ma ci sta, di conseguenza sui minimi di 5 giorni fa stabiliremo i supporti di oggi, perché bisogna guardare non tanto le resistenze, perché ripeto, Fuzzimib un 28.000 ce l'ha davanti agli occhi, ma andremo a vedere se possiamo osservarne eventualmente dei punti d'ingresso per eventuali debolezze. Buona giornata.